Il Fondo per la Campagna Referendaria sulle Trivelle sarà finanziato in Puglia con uno stanziamento volontario dei consiglieri regionali. Lo ha stabilito l'Assemblea Legislativa pugliese approvando maggioranza con 34 voti a favore e 10 astenuti, un ordine del giorno sostitutivo della proposta di legge contenente l'autorizzazione di spesa per le attività della campagna referendaria 2016. Rispetto a quest'ultima, che impegniamo una cifra di 250.000 euro per le iniziative connesse alla campagna informativa su referendum abrogativo, si passa ad uno stanziamento che coinvolgendo consiglieri ed assessori su base volontaria potrebbe raggiungere i 50.000 euro. Un referendum, ricordiamo, convocato con decreto del Presidente della Repubblica per domenica 17 aprile prossimo. Il corpo elettorale è ripartito negli 8.000 comuni e nelle 61.576 sezioni elettorali del territorio nazionale e di 47.212.590 elettori, a cui vanno aggiunti i 4.029.231 residenti all'estero. Lo scrutinio dei voti inizierà alle ore 23 di domenica 17 aprile, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Anche laddove il quorum non fosse raggiunto un risultato importante di influenza al voto a favore del sì, avrebbe un valore politico enorme che non va sottovalutato, un valore politico che potrebbe consentire la modifica comunque della norma attualmente in vigore. Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando del referendum del 17 aprile sulla durata delle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi. Un quesito importantissimo, ha detto Emiliano, che è quello che deve consentire la procedura di chiusura dei pozzi in modo controllato tra governo, regione e petrolieri. Non è affatto inutile e non provoca licenziamenti. Emiliano ha poi detto che in questi giorni il Governo potrebbe ancora evitare il referendum. Se il Governo avesse voluto, ha spiegato Emiliano, avrebbe potuto ingoiarsi anche questo quesito come si è ingoiato gli altri cinque e avrebbe potuto ripristinare la vigenza della legge del 91. Ricordando poi che il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno, a maggioranza con cui si vitano i consiglieri a contribuire con risorse proprie alla campagna referendaria per il sì, Emiliano ha detto non ci si dica che stiamo sprecando denaro pubblico. Innanzitutto perché oggi è stato spazzato via questo argomento falso, e lo hanno fatto esponenti di tutti i partiti. E sono orgoglioso di essere Presidente della Regione Puglia per conto di tutti, anche di quelli che non fanno parte della mia maggioranza e che oggi hanno dato il senso di quello che significa dire io sono pugliese. Era già bello prima, ha concluso, ma da oggi dire io sono pugliese è ancora più bello.